E ok 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 ci siamo, bentornati in questo nuovo video, bentornati su Afterside Crypto, io sono Emiliano e anche oggi torna il nostro consueto Morning with Crypto, l'appuntamento che ci accompagna da lunedì al venerdì con le principali news di mercato, con quello che è successo nella notte, andremo ad approfondire un segnale che non è mai avvenuto sul prezzo di Bitcoin, sulla sua storia breve ma intensa diciamo, e poi andremo a vedere un sacco di altre cosine molto interessanti, quindi rimanete con me fino alla fine, come sempre prima di partire vi invito uno, quello di lasciare un bel mi piace, qualora questi contenuti fossero di vostro interesse e di vostro credimento, mi ha aiutato tanto col canale, se siete nuovi ricordatevi anche di iscrivervi con un clic sulla campanellina prima nelle sempre giornate, insomma è l'unico modo per stare su un pezzo in un settore che si muove velocissimo, detto ciò ovviamente date un'occhiata ai link che trovate qua sotto in descrizione, che aiutano il canale a sostenersi e in più sono i servizi che sto utilizzando in questo momento e che possono insomma esservi di aiuto. Con degli sconti esclusivi. Detto ciò non perdiamo altro tempo e partiamo. Partiamo da JP Morgan perché anche loro sono andati a commentare quella che è stata la decisione del giudice riguardo il caso Ripple contro Sec e hanno anche loro dato la loro opinione, che è molto simile insomma a quella che vi avevo già esposto io in precedenza, cioè che può riflettersi positivamente, in questo caso dicono, sul caso The Coinbase. Cosa vuol dire? Vuol dire che sappiamo che Sec ha accusato anche Coinbase di andare a vendere security eccetera eccetera e ovviamente andare a legittimare lo scambio di Ripple, che sappiamo anche che Coinbase stesso era andato a rimuovere la coppia ancora un anno fa, se non sbaglio, un anno e mezzo fa, quando proprio arrivò l'idea della Sec di andare ad accusarla di security, ecco che si è andati un po' nel caso più aggressivo, cioè andare a delistare, a provare a delistare un po' tutti quelli che sono asset che non rappresentano, o meglio che rappresentano delle security. In questo caso Coinbase non era andato a delistarli, ma era stata poi accusata insomma di diverse cose, tra cui lo staking eccetera eccetera. Questa cosa qua chiaramente porta maggiore confidenza anche per tutto il resto del coin ed è infatti ciò che abbiamo visto sui prezzi anche lì delle principali al coin, andare a prendere gain in doppia cifra in maniera abbastanza veloce, abbastanza semplice. Quindi è sicuramente un buon segnale, sicuramente c'è ancora degli scheletri da sistemare, però comunque sia a mio parere apre bene la strada a quello che può essere, se tornasse a pieno un bull market, una veramente follia sull'alcoin. Molto spesso, meglio l'unica cosa che su un eventuale bull market poteva fermare certi al coin era questa spada un po' della SEC, però se così verrà confermato insomma sarà cosa buona e giusta. Così come, basta se faccio una messa, è da osservare per quanto riguarda le alcoin Arkham perché vi ricordo che alle ore 8 per chi ha Binance insomma e ha fatto il periodo di detenzione dei suoi BNB, io ve lo ricordo, si può andare per le prossime 24 ore ad allocare i vostri BNB all'interno di Arkham, vi verranno poi domani mandati insomma, compariranno sul vostro spot wallet la vostra location e poi verranno listati e potete già venderli, farci quello che volete, insomma Arkham è un progetto che ha avuto molto da dire in queste settimane e quindi è una cosa interessante secondo me da valutare, se lo avete, di solito i launchpad di Binance fanno 20 per così, insomma, ma non perché lo dico io, guardate i dati voi, fate le vostre ricerche, in ogni caso 22 minuti mancano appunto alla sottoscrizione, quindi ve l'ho risegnalato, andiamo invece a vedere questo segnale, segnale molto importante perché per la prima volta, lo vedete bene qua, avete un cross, o meglio abbiamo crossato a ribasso la 20 con la 200 e per la prima volta stiamo andando a recuperare la 20 con la 200 con un cross rialzista, guardate dal 2015, sono medie mobili normali, non abbiamo mai in tutti i bear market, non siamo mai andati a toccare, o meglio a crociare a ribasso, questa volta ce l'abbiamo fatta, è stato un bear market davvero uno dei, anzi il più potente, il più difficile su tutto il mercato delle criptovalute da quando esistono, questo è poco ma sicuro, e per la prima volta siamo andati a ricrociare a rialzo appunto queste due medie mobili, il che può essere un ottimo segnale perché sappiamo che tutti i bull market viaggiano al di sopra e quindi può essere un segnale importante, fatemi sapere anche cosa ne pensate, sicuramente è un cross di due medie mobili lente, quindi non è una cosa che avviene spesso, e dopo aver decretato insomma il bear market e averlo più che è un lagging indicator, quindi non è un indicatore di solito di momento, ma è un indicatore comunque di ampio respiro, può dare un segnale anche in questo caso in questione di ampio respiro di un potenziale di partenza di un bull market, staremo a vedere, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate qui sotto i commenti, mi fa sempre piacere leggervi tutti. Prima di passare ai gainers e ai users vi ricordo solo questa cosa qua, perché abbiamo fatto la sezione Afterside Exclusive, che è una sezione dove andiamo a inserire tutte quelle che sono le promozioni che avete a disposizione per Afterside e soprattutto che aiutano il canale a sostenersi e vi danno degli sconti esclusivi e soprattutto i più alti che ci sono in giro. Quindi avete la new entry Bybit, per Bybit vi lascio qua sotto un link di un google doc, perché se avete già fatto un account, non avete usato un referral o lo avete usato eccetera eccetera, se lo compilate vi viene boostato al massimo, quindi è un modo anche per andare incontro agli utenti che magari non sanno che cosa hanno in corso, lo utilizzate, cliccate, mettete dentro i vostri dati e vi viene messo al massimo dal team di Bybit da me, quindi sfruttatelo se non lo avete e lo utilizzate, se no comunque BitGet insomma che utilizzo sempre per le mie operazioni in questo periodo eccetera eccetera. Andiamo a vedere quelli che sono i gainers delle 24 ore, troviamo OneInch che fa un più 40%, troviamo Algorand che fa un più 10%, DYDX che fa un più 7%, Uniswap un più 6%, Maker un più 5%, Bat un più 5%, Arbitrum un più 5%, anche Arbitrum ha fatto una buona settimana, un più 20%, XRP un più 5%, vabbè insomma è tutto il resto, Alcoin che chiaramente vanno a continuare il loro trend positivo, Injective che fa invece un meno 5% tra i top losers, Synthetix un meno 4%, anche un meno 5%, Compound un meno 4% e via discorrendo insomma. Meno sicuramente losers che gainers, anche se Bitcoin guardate è stato una piattume in tutto il weekend, cioè non ci siamo praticamente mossi, è stato una stablecoin come era facile anche immaginare di fronte comunque a della volatilità che avevamo avuto e soprattutto di fronte a un Open Interest che dopo questo dump non è andato più a riprendersi, è stato molto flat, cioè non si è proprio mosso, guardate anche a livello delle liquidazioni il nulla cosmico, quindi di conseguenza anche in questa fase qua c'è meno carne sul fuoco, quindi dopo si poteva anche aspettare. Invece sull'Alcoin il discorso è un po' diverso perché la Dominance comunque non sta recuperando, sta andando ad avere un'ottima resistenza sulla 50 e questo sta continuando a favorire, vedete anche il crocio ribassista di 12.26 che non avveniva da parecchio tempo, pensate, da quando abbiamo avuto il cross rialzista a 47.89 siamo andati dritti fino ai 52, che è tantissima roba sulle Dominance, abbiamo avuto il primo crocio ribassista e una Dominance che sembrerebbe in difficoltà sul 50%, se questo supporto di cui abbiamo già discusso non dovesse tenere potremmo anche scendere al 49 e vedere ulteriore spazio sull'Alcoin, è tutto un po' determinato anche dalla questione SEC di cui abbiamo già parlato. Ethereum come è messo, anche lui un pochino meglio, mantiene la 12 bene sul daily e sta continuando comunque anche a mantenersi bene, insomma in ottica di provare un ulteriore lag. Stessa cosa vale, ovviamente non sono consigli di investimento finanziario, mi raccomando, vale anche per Solana e dopo aver fatto una sparta fino a 32 è andato nel weekend comunque zitto zitto a riposizionarsi sul 28.05 dopo aver aperto a 26.69, quindi comunque ha avuto l'Alcoin, lo vedete nel weekend, una buona attrazione, non con i numeri di cui ci abituano in doppia cifra, ma sicuramente ci sono andate a consolidare bene il loro upside. Lo vedete anche se, sempre su Solana, io sempre ve lo faccio vedere un po' così, quando vedete questi pump molto aggressivi e andate a prendere questo top qua, guardate, siamo andati perfettamente con questo ritracciamento a mantenerci sulla chiusura sullo 0.5 e 0.38, insomma in queste zone qua. Tutto questo ovviamente sto prendendo l'appershadow, dovreste un pochino adattarlo a quella che è l'exchange, eccetera, ne ho preso uno a caso, però di solito stateci attenti perché molto spesso quando vanno a fare questi pump molto esagerati vanno poi a consolidare tra lo 0.38, stiamo allarghi su 0.5 per l'ampia volatilità e comunque mantengono bene il loro uptrend, quindi non vi spaventate quando vedete questi pump and dump nella stessa giornata proprio per quel motivo lì. Detto questo non voglio aggiungere altro perché se no divaghiamo, staremo in osservazione, sicuramente le cose non sono messe male e anzi sono molto interessanti da osservare, quindi se vi fa piacere vi aspetto poi anche su tutti gli altri canali, trovate qua sotto in descrizione anche il gruppo Telegram dove vi arrivano direttamente i contenuti se ve li perdete. Detto ciò vi auguro ancora una buona giornata a tutti, noi ci aggiungiamo presto con un prossimo video, intanto appunto un saluto a tutti quanti. Ciao ragazzi!